ok oggi siamo il 28 8 2016 domenica in poche parole che siamo che ho e sono adesso non ve lo dico neanche un saluto al youtuber alessandro natalini che ha la stessa passione di me la natura dunque andate a vedere le sue video ok dunque passiamo da me che devo fare un po di chiarimento tutto lì oggi siamo domenica siamo quasi alle 3 di mattina fa un caldo nell'appartamento dove sono che che non ce la faccio e non arrivi neanche a dormire tanto adesso vado a buttare le modizie faccio una piccola camminata nel centro nel centro per dio quindi devo spiegare una cosa adesso andiamo un po' a caldo questa mia moglie bello posto una piccola camminatina 50 metri dunque stavo pensando allora sulla pagina facebook sulla mia quando io faccio entrare nelle nuove persone voi non vedete che praticamente non vedete la lista dei miei amici almeno che che avete gli amici che fanno parte dei miei dunque li vedete tutti quelli altri non vedete niente di quello che avete capito non vedete che potuto rendere alpino era un italiano questo questo e questo perché lo faccio vedere ho avuto delle lamentesse ultimamente sì ma tu nascondi i tuoi amici non nascondi niente io proteggo gli amici tutto lì è una sicurezza perché ci sono due categorie amici e famiglia e amici di gioco hanno tutte le finestre aperte io stesso col cuore non è che sto bene e dunque saprò di più no, qui siamo al centro qui è il centro, nel paese dove vengo, dove vengo o non vado di là faccio vedere com'è no, qui è il centro, prima vittavo qua qua, uno, due, tre, prima qui c'è scritto qua, qui c'è un nuovo discontri che vende roba, roba usata qui c'è scritto qua, qui c'è scritto qua, qui c'è scritto qua, qui c'è scritto qua, deposito vendita qui c'è scritto qua, dai dei nomi e no, le parolacce che dico non dovete dirle che a me viene automatico, però poi non ho fatto quello che dico io come parolacce quanto costa questo, tutto ho usato 1,50 1,50 devo guardare il prezzo comunque è vecchio questa roba no dunque fermi attento a 1 euro 1 euro la sorella allora dicevo sulla mia pagina faccio quello che voglio dunque se voi non vedete gli amici miei perché è così per sicurezza è così punto basta dunque non mi rompete più perché sennò io vi elimino subito punto basta da questo è l'unico bar che è rimasto aperto poi c'è un altro piccolo se non è tutto chiuso tutto è morto qua pensate che prima era una città che a quest'ora c'era gente oggi c'è più un cavolo e sarà sempre più peggio allora con questo video io vi saluto vi auguro di passare una buona domenica a youtuber a quelli di facebook noi ci sentiremo lunedì con una nuova video e basta tutto lì non funziona questa con la luce funziona purtroppo il problema è che mettono per risparmiarmi poi la tassa di abitazione è sempre più cara vabbè vabbè da ok ci sentiamo alla prossima video un saluto a tutti a tutti è qui è qui è qui è qui qui